Alle nostre spalle Amichevole Mattutina in una giornata invernale davvero molto bella e soleggiata, Amichevole del Campo Basso con la squadra del Campo di Pietra, una delle formazioni di alta classifica del campionato di eccellenza. Amichevole in corso, non sta partecipando Di Francesco che però ha recuperato, possiamo inquadrarlo con il nostro operatore Antonio Trotta, Di Francesco che sta praticamente correndo intorno al perimetro del terreno di gioco, lo stesso Rossetti che sta facendo esercizi di stretching con il fisioterapista dottor Alberto Sciacqua. Insomma il Campo Basso si prepara da qui ad una settimana alla ripresa delle ostilità che sarà il 23 contro la Juve Stabia, sicuramente una partita che si annuncia delicata, potrebbe essere una settimana all'insegna del mercato, un mercato che sicuramente per tutte le formazioni di Lega Pro non è altisonante, non è un mercato che sta riservando grossi colpi e sarà su questa lunghezza d'onda anche il mercato del Campo Basso. Pare che Mantova e Lucchese siano sulle tracce di Michele e Mausso, attaccante quest'oggi in forza al Campo Basso. Vedremo se sarà o meno un movimento in uscita di questo e di tanto altro. Abbiamo parlato con il patron Mario Gesuè. Sì dai, per il momento sì, almeno nel nostro club stiamo ragionando in maniera normale, tutti sono a disposizione, quindi pronti a ripartire il prima possibile e speriamo di ripartire il 23. Speriamo, è una cosa che dicono in tanti, abbiamo sentito anche altri dirigenti di società di Lega Pro, perché oggi è una speranza ripartire il 23? No, perché ormai siamo spaventati al di fuori di tutto, perché è troppo tempo che c'è incertezza su queste cose, non ci aspettavamo uno stop sicuramente così lungo in questo momento, però diciamo che le indicazioni che arrivano dalla Lega è di una ripresa possibile il 23. Uno stop lungo di un mese, se si riprenderà a questo punto il 23, dalla ripresa temi ci possano essere dei contraccolpi, temi che qualcuno abbia potuto mollare la presa anche a livello mentale, incosciamente? No, non penso proprio, anzi assolutamente no, abbiamo cercato di sfruttare questo mese, cercando di ricaricare anche noi le batterie, alla fine le abbiamo prese in maniera positiva, preparandoci meglio, mettendo benzina nelle gambe, recuperando un po' quelle che erano anche alcune defezioni che avevamo all'interno della squadra, cercando anche di recuperare energie mentali che sicuramente abbiamo speso tantissimo nella prima parte di campionato, quindi pronti e vogliosi e carichi. Il mercato del Campobasso sarà fatto di scambi, per ora nessun volto nuovo, ma entro la partita contro la Juve Stabia possiamo aspettarci qualcosa? Allora, nessun volto nuovo, abbastanza un po' dappertutto, perché il mercato è fermo, questa incertezza anche della ripresa sicuramente ha inciso sul rallentamento del mercato. Abbiamo in serbo qualcosa, stiamo lavorando su qualche operazione, non so se saremo in grado di chiuderla già prima del 23, però stiamo lavorando attivamente per fare qualche ingresso. Opportuno, secondo te, secondo il Campobasso, giocare due volte a gennaio, poi 7 a febbraio? Allora, no, io ho già fatto una chiacchierata in Lega col presidente Ghirelli, ho manifestato la nostra non soddisfazione nel giocare praticamente metà girone di ritorno in 30 giorni, perché se dovessimo riprendere dal 23 gennaio al 26 febbraio giocheremmo 9 partite, quindi sarebbe sicuramente un tour de force incredibile, secondo me non corretto da un punto di vista di impatto calcistico, c'è stato detto che probabilmente potrebbero esserci delle modifiche al calendario se tutto dovesse rientrare, quindi ci aspettiamo anche magari uno slittamento di qualche partita più avanti rispetto al calendario stesso. Ecco Mario, un'ultima cosa, anche un messaggio ai tifosi, non dico un appello, però un messaggio anche perché il prolungamento della sosta magari, non dico che può raffreddare, però in qualche modo rimanda di settimana in settimana alla ripresa delle ostilità, ma alla ripresa dei giochi ci vorrà anche un tifo sempre caldo così come è stato. Assolutamente, come hai detto bene tu, come è stato fino adesso, dobbiamo riprendere da lì, sia come squadra che come tifo, dobbiamo sapere che ci aspettiamo davanti 18 partite di fuoco impegnative, difficilissime, noi dobbiamo tutti insieme lottare per tenerci questa categoria con le unghie e con i denti, quindi da parte nostra noi siamo pronti a ripartire, sono convinto che anche i tifosi si faranno trovare pronti.